Siamo con Simone Procopio, una partita terminata 2 a 1, una partita che comunque porta tanti buone cose, c'è stata un po' di sfortuna, c'è da dirlo, però insomma penso che nonostante il risultato è dura dirlo perché è il punto di classifica 1, però le cose buone ci sono Sì, sì, è un periodo un po' no, mezza palla ci dice sempre male, noi palo, loro mezzo tiro fanno gol lo spirito è quello giusto, possiamo dire la nostra Il filtrante di slider è il grande pallonetto, c'è stato quel palo che ha fatto gridare vendetta com'è venuta la qualità di quello esterno, quel pallonetto? No, no, ho visto portiere fuori dai pali, stanco fisicamente, la prima cosa che ho pensato è provo a fare pallonetto Come l'ho detto è un periodo che ci dice sempre male e lavoreremo ancora di più La prossima partita ci si pensa? In che modo? Come si prepara questa settimana? Con più rabbia? O con quale sensazione? No, no, la prepariamo consapevoli dei nostri mezzi, siamo una buona squadra La classifica è quella che è, ma noi faremo sempre la nostra, vediamo sempre la nostra, ci mancherebbe Assolutamente sì, speriamo la prossima volta sia un po' confortunata